Per le donne irpine il tumore alla mammella si conferma la principale causa di morte. A lanciare l'allarme il senologo Carlo Iannaci alla luce del quadro epidemiologico che viene fuori dal report aziendale dell'AS di Avellino. E per questo lancia un nuovo appello a tutte le donne di sottoporsi a controlli periodici e di prevenzione. Carlo Iannaci, primario della Breast Unit di Senologia dell'ospedale Moscati di Avellino, nel corso degli anni ha creato un'importante rete assistenziale con attivisti e associazioni di volontariato impegnate costantemente nel divulgare l'importanza della prevenzione. Il tumore non aspetta e non ci avvisa, Iannace con il suo gruppo organizza ogni settimana visite senologiche gratuite in tutta la campagna. E poi c'è la Breast Unit di Senologia dell'ospedale, un presidio efficace ed efficiente. Una squadra formata da collaboratori, medici, infermieri, volontari che lavorano incessantemente. L'appello del senologo a donne, ma anche agli uomini, sin dalla giovane età, è ad effettuare screening oncologici non solo per la mammella, per individuare il tumore in fase iniziale. Non abbassiamo mai la guardia, dice, dobbiamo sensibilizzare tutti a volersi bene e a preservare la propria salute attraverso la prevenzione. Grazie a tutti.